cari amici ma soprattutto cari amiche di total photoshop ben ritrovati sono massimo pinciroli di aproma store e sono qui per proseguire la nostra chiacchierata sui flash da studio abbiamo visto nei video precedenti cos'è un flash da studio come composto e più o meno come come lo si comanda abbiamo visto l'unboxing di un kit appena acquistato vediamo ora nello specifico come si utilizza un'unità nella fattispecie un delight rx4 uno dei best seller della gamma elinchrom quindi questo è il nostro flash montato sullo stativo in dotazione utilizziamo un riflettore grandangolare che avremo modo di vedere essere uno di quelli più versatili molto pratico anche per l'uso con gli ombrelli e cominciamo con l'accendere il nostro apparecchio abbiamo un pannellino di comandi comune a tutta la gamma elinchrom vediamo come fare a pilotare il flash abbiamo sostanzialmente tre possibilità ma come prima cosa dobbiamo assolutamente ricordarci che i flash da studio sono flash che lavorano in manuale quindi dobbiamo impostare anche la nostra fotocamera con la modalità di esposizione manuale dove potremmo decidere tempo di scatto e diaframma e lo stesso per la sensibilità togliamo iso auto e scegliamo una sensibilità alla quale lavorare per comandare il flash abbiamo detto che esistono tre metodi il primo se vogliamo quello più semplice è quello di attivare con un pulsantino la fotocellula presente in tutti i flash da studio elinchrom accendere il flash della nostra macchina fotografica in questo caso quello integrato ma potrebbe essere il flash a slitta fare uno scatto e vediamo che il nostro flash da studio senza alcun collegamento scatta quando la fotocellula rileva il lampo del flash della macchina in questo caso da un punto di vista creativo non è la migliore delle condizioni in quanto il lampo del flash della macchina fotografica andrebbe ad influire sicuramente sull'esposizione e sulla creatività delle nostre luci per tenere il flash della fotocamera spento possiamo quindi utilizzare un cavo sincro un cavo lungo solitamente 5 metri fra fotocamera e flash in questo caso abbiamo questa connessione jack in cui inserirlo e in tal modo potremmo far scattare il flash senza avere altre sorgenti di luce però visto che oramai da anni tutti i flash elinchrom dispongono di un ricevitore radio integrato la soluzione più pratica e più semplice è sicuramente quella di ricorrere a un trigger skyport che tra l'altro mi viene dato in dotazione praticamente con tutti i kit di flash elinchrom in questo caso io vado a posizionare questo piccolo trasmettitore sulla slitta della macchina fotografica lo accendo e ancora una volta posso comandare il flash in questo caso senza nessun'altra sorgente di luce abbiamo detto che dobbiamo lavorare con la macchina in manuale quindi dobbiamo rinfrescare un pochino le basi di regolazione dell'esposizione o della potenza qui sul pannello comandi del nostro flash elinchrom ho queste due frecce che mi consentono di regolare questi numerini nel caso del delight 4 vanno da 6.0 a 2.0 vediamo cosa vuol dire ma prima ripassiamo qualche base delle esposizioni chi ha cominciato ad occuparsi di fotografia qualche tempo fa ai tempi della pellicola per intenderci sicuramente ricorderà che c'erano due scale ben precise e con valori abbastanza fissi attraverso le quali poteva regolare l'esposizione della sua fotocamera la scala dei tempi e la scala dei diaframmi la scala dei tempi è molto semplice tempi espressi in frazioni di secondo quindi un millesimo di secondo un cinquecentesimo di secondo un duecentocinquantesimo di secondo e così via e al passare da un tempo all'altro la quantità di luce veniva raddoppiata o dimezzata semplicemente perché il tempo attraverso il quale la luce arrivava sulla pellicola raddoppiava o dimezzava l'altra scala era quella dei diaframmi quindi l'apertura del nostro obiettivo e anche in questo caso i valori erano ben fissi e ben noti per cui passando da un valore ad un altro da un valore più basso ad un valore più alto l'area del foro attraverso cui passava la luce dimezzava e di conseguenza anche la quantità di luce che arrivava sulla pellicola diventava la metà. Per quanto riguarda la scala dei tempi diciamo che con il flash ci interessa relativamente l'importante è impostare la nostra macchina su un tempo al massimo veloce quanto il tempo di synchro flash solitamente un 125esimo o un 250esimo la luce del flash come abbiamo avuto occasione di vedere comunque una luce molto molto rapida quindi in realtà non potrei andare a bloccarla o ad intervenire su di essa con il tempo dell'otturatore quindi verifichiamo sulla nostra macchina fotografica qual è il tempo di synchro flash ed impostiamo quello e dimentichiamoci un istante della scala dei tempi. Per contro col digitale un'altra delle scale che mi possono interessare per regolare l'esposizione è la scala dei valori ISO anche in questo caso valori come 1600 ISO, 800 ISO, 400 ISO, 200 ISO, 100 ISO, 50 ISO e così via sono tutti valori interi che rappresentano un raddoppio o d'un dimezzamento dell'esposizione necessaria quindi la cosa importante da notare è che sia nella scala dei diaframmi sia nella scala delle sensibilità passando da un valore all'altro ho uno stop di differenza di esposizione a salire o a scendere. Con le macchine moderne a gestione elettronica tutto questo si è un pochino complicato perché non ho più solamente dei valori interi quindi diaframma 2.8, diaframma 4, diaframma 5.6 ma ho spesso e volentieri delle macchine che mi consentono di regolare la luce in mezzi stop o in terzi di stop. Possiamo vederlo sul display della nostra macchina che è impostata in terzi di diaframma dove ho ad esempio diaframma 6.3, diaframma 7.1 quindi fra il 5.6 e l'8 ho ulteriori due possibilità così come del resto anche nella scala delle sensibilità ho dei valori intermedi di un terzo di stop. Ora che ci siamo chiariti questo piccolo schema sulla regolazione dell'esposizione entra in gioco anche la regolazione della potenza del nostro flash i famosi numerini presenti sul display del nostro flash elinchrom. Anche in questo caso ho dei valori interi quelli alla sinistra del puntino decimale divisi per l'appunto in decimi. In questo caso 6.0 è il massimo valore che viene raggiunto dal nostro D-Lite RX4 quindi significa che scattando in questo modo il flash starà dando una potenza di 400 watt secondo. Scendendo da 6.0 a 5.0 vediamo che ad ogni clic lui scende di un numerino di un decimale scendendo da 6.0 a 5.0 io sono sceso di un diaframma intero quindi ancora una volta ho dimezzato la potenza del flash in questo caso con 5.0 il flash starà dando una potenza pari a 200 watt secondo. Come vedete abbiamo detto che le macchine analogiche lavoravano per stop interi le macchine digitali lavorano in terzi di stop i flash elinchrom lavorano addirittura in decimi di stop quindi lavorando su set molto complessi con tanti punti luce può essere interessante può essere utile poter regolare la potenza singolarmente di ognuno dei punti luce anche solo di uno o due decimi di diaframma e lo faccio semplicemente impostando dei decimali con le freccettine che salgono o che scendono. Un'altra caratteristica importante la sentiamo da questo bip questo bip è quello che mi indica che il flash è pronto per scattare con la potenza che io ho impostato sul display quindi scattando in sequenza può essere importante attendere il bip prima di fare lo scatto successivo ma proviamo a vedere con l'aiuto di un esposimetro se questa scala effettivamente funziona regolando la potenza della luce emessa. Facciamo ora una prova per vedere se la regolazione della potenza del nostro D-Lite 4 funziona. Abbiamo impostato il display su 4.0 quindi l'equivalente di un flash da 100 watt secondo proviamo avviamo la lettura del nostro esposimetro scattiamo diaframma 16 passiamo da 4 a 5 quindi come abbiamo detto saliamo di uno stop attendiamo il bip di pronto flash e riscattiamo da 16 siamo passati a 22 quindi abbiamo guadagnato effettivamente uno stop andiamo ora a fondo scala quindi a 6.0 chiediamo al nostro flash di emettere tutti i suoi 400 watt secondo f32 quindi effettivamente abbiamo guadagnato ancora uno stop quindi questo nonostante i flash da studio ci costringano tra virgolette a lavorare in manuale questo ci è sicuramente d'aiuto per calcolare l'esposizione dei nostri scatti o regolare le differenze su set con più punti luce. Abbiamo detto che per lavorare con i flash da studio è importante impostare la macchina in modalità manuale però abbiamo visto come il sistema di regolazione della potenza anche su un flash semplice come può essere il D-Lite RX4 ci aiuta assolutamente ad avere sempre esposizioni pienamente sotto controllo. Teniamo in considerazione che la regolazione può essere effettuata su 5 diversi diaframmi. Abbiamo visto che un flash anche da soli 400 watt secondo può darmi comunque dei diaframmi molto chiusi anzi il problema può essere quello proprio di poter scendere molto con la potenza ma Elinchrom ci consente di farlo. A questo punto vi do la rivederci al prossimo video con gli amici di Total Photoshop per vedere le ulteriori possibilità di utilizzo dei nostri flash da studio. Grazie, arrivederci!